Dalla sua esperienza alla procura di Catanzaro durante l'inchiesta Why Not all'avventura all'Europarlamento prima, al comune di Napoli poi, dove anche una volta svestita la toga si è trovata a fare i conti con un sistema di potere a lui avverso e la vita di Luigi De Magistris racchiusa in fuori dal sistema, il suo libro presentato alla palazzina Liberty di Venafro nell'ambito degli incontri promossi dall'Auser Cultura. De Magistris racconta gli ostacoli che ha trovato sul suo percorso come pubblico ministero ma anche come uomo impegnato in politica nel far rispettare la Costituzione perché l'operato delle istituzioni dovrebbe essere sempre e soltanto in favore dei cittadini e mai per interessi privati. Racconto di che significa stare nelle istituzioni perseguendo il bene comune, l'interesse pubblico e constatare che purtroppo dentro le istituzioni c'è anche tanta gente che utilizza le istituzioni per perseguire interessi privati, finanche affaristici e anche delinio un vero e proprio sistema di criminalità istituzionale che sta inquinando e corrodendo le basi democratiche del nostro paese. In magistratura ho pagato il prezzo più alto perché poi mi hanno ostacolato, mi hanno fermato, mi trasferirono ingiustamente, poi la storia ha rimesso a posto le cose e il tempo è stato calantumo però comunque ho pagato un prezzo altissimo e volevo continuare a fare il magistrato. Da sindaco ci hanno provato ma non ci sono riusciti, il sindaco si può alleare con il popolo e questo crea ovviamente una forza, cosa che non ho potuto fare in magistratura dove sono stato isolato. L'impegno politico di De Magistris non si è mai fermato, tra i prossimi suoi obiettivi potrebbe esserci quello della candidatura a sindaco di Napoli, città dove è stato primo cittadino per dieci anni. L'avevo inizialmente escluso perché poi ho fatto due mandati, sono stato il sindaco più longevo di Napoli dal 1806 però devo dire che negli ultimi tempi ci ripenso perché camminando per strada tanti me lo chiedono, poi ho una valutazione molto negativa di questo sindaco che sta buttando in malo modo tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni e quindi sinceramente ci sto pensando anche perché la politica dal basso alla fine è quella che più mi ha entusiasmato, è quella più bella.